benvenuti e bentornati amici di NBApassion.com sul nostro canale youtube oggi facciamo faccio da solo un video molto breve in cui andremo un po' a analizzare non tanto le ragioni della sconfitta dei Phoenix Suns del cappotto subito ai playoff al primo turno dei Phoenix Suns dei Minnesota Timberwolves superiore in tutto e per tutto per appunto 4 a 0 un cappotto subito da una delle squadre che all'inizio della stagione perlomeno era data come una delle grandi favore del titolo non fosse altro per la presenza dei tre super giocatori come Kevin Durant, Bradley Bill e Devin Booker ma ne parliamo non tanto appunto diciamo un'analisi del perché dei motivi di una sconfitta per quella ci sarà tempo nei prossimi giorni usciranno gli articoli su NBApassion.com che spiegheranno più nel dettaglio i perché e i per come ne parleremo anche con il nostro con il nostro leccio oggi a caldo perché insomma recuperare il video a breve si parla di poche ore removed come si dice in inglese poche ore dopo la sconfitta appunto in gara quattro dei dei Suns per 122 116 che ha sancito l'eliminazione della squadra allenata da coach Wolver per 4 a 0 penso un anzi sicuro da questo punto di vista è un risultato che nessuno anche fra i giocatori diciamo così di bracket di playoff più ardita avesse mai potuto mai potuto concepire invece è successo i Suns se ne vanno già a casa è un fallimento totale le cui ragioni appunto le vedremo questo video lo facciamo un pochino per andare a vedere come e da chi i Suns possono ripartire e possono farlo già un spoiler possono farlo ripartire per provarci l'anno prossimo sempre che la volontà quella di Matt il proprietario sicuramente però la volontà sempre che la volontà generale sia quella di riprovarci in un certo senso anzi senza mezzi termini sono costretti perché per costruire queste squadre le Suns hanno letteralmente dato fondo a tutte le risorse agli asset come si dice disponibile infatti questo video in questo video parleremo parleremo soprattutto soprattutto di questo perché insomma quando cadono delle non si dice no più sono più sono grossi più sono grandi più fanno più fanno rumore quando cadono i Suns sono la prima grande non supposta tale che casca in questo pilota tra poco a meno che di sorpresa li raggiungeranno almeno un altro paio di di grandi perché sono i Los Angeles Lakers e i Milwaukee Bucks che non sono messi assolutamente troppo bene nel loro piccolo anche i Philadelphia 76 hanno enjoy and bid l'NVP in carica però oggi parliamo dei Phoenix Suns andiamo un po' a vedere da dove come e se i Suns possono ripartire ricalibrarsi e anche perché non imparare da questo flop fallimento mettete voi mettete voi il sostantivo che preferite per descrivere la situazione giochiamo di andare un pochino un pochino per grade in maniera un po' per cercare di così andare a analizzare un po' tutto il paesaggio intanto mi metto qua nell'angolino così non mi vedete che non sono interessante allora ho scelto vabbè l'immagine che viene durante Frank Vogel che ha tanti tanti piani di lettura tanti significati allora i Suns hanno perso gara 4 come dicevo prima 122 116 è stata è stata la la partita più equilibrata della serie anzi forse l'unica equilibrata sostanzialmente della serie perché le prime tre sono finite più o meno tanti a pochi per i T-Wolfs i Suns hanno perso il quarto periodo per 32 a 24 dopo aver giocato punto a punto sostanzialmente per tutta la partita per tre quarti e mezzo sostanzialmente David Booker ha scattato almeno dal punto di vista statistico una serie giocata veramente male segnando 49 punti con 5 rimbalzi e 6 assist 20 su 21 ai tiri liberi tra l'altro Kevin Durante di punti in assegnati 33 con 9 rimbalzi e 5 assist la coperta è sempre corta quando si tratta di 3 attaccanti così questa volta la pagliuzza corta l'ha presa Bradley Bill che ha di punti in assegnati 9 con 4 su 13 dal campo la panchina non ha fornito alcun tipo di supporto con 10 punti mal distribuiti fra Josh Kogge e Eric Gordon sinceramente se ci stai ascoltando Eric pronto per la seconda fase della tua carriera laddove invece insomma Minnesota Timberwolves hanno continuato con il loro piano partita e piano serie rispetto alle prime tre partite l'NVP ombra perché l'NVP in piena luce Anthony Edwards ci arriveremo l'NVP ombra di questa serie per almeno le prime tre partite Rudy Gobert ha avuto problemi di falle ha giocato solo 25 minuti 9 punti 5 rimbalzi in mostra un ottimo Carlo Anthony Towns con 28 punti 10 rimbalzi e un grandissimo Anthony Edwards non tanto perché abbia fatto qualcosa di eccezionale dal punto di vista della quantità e della qualità proprio perché è grandioso perché ha saputo consacrarsi termine che abbiamo in tante testate tra cui noi hanno usato tanto in questi giorni per Anthony Edwards consacrarsi ai playoff il giovane naturalmente è la seconda volta che li gioca, la prima volta che li gioca con una squadra che è arrivata così in là in regular season lo ha fatto, si è consacrato dal miglior giocatore della serie in una serie che vedeva schierato Kevin Durant e se Kevin Durant in una serie in cui gioca lui non è il miglior giocatore di suddetta serie insomma vuol dire che ha fatto qualcosa di veramente grande tra l'altro noto a margine, il Minnesota Timber lo sono perso per infortunio per fortuna nel senso che non gioca e potrà allenare anche con le stampelle sostanzialmente coach Chris Finch che ha stato travolto da Mike Conley sulla riga di fondo anzi in un laterale negli istanti finali della partita si è rotto tendine e rotule infortunio anche grave per Finch che rientrerà in panchina insomma dalle prossime partite però se ho fatto male di brutto quindi è giusto anche citare quello che è arrivato terzo se non lo ricordo male, esatto terzo nella corsa al premio insomma di allenatore dell'anno il Minnesota Timber vanno avanti, aspettano, spero di non sbagliare la vincente della Sir Friend Ever Nuggets e Los Angeles Lakers e se passeranno i Nuggets saranno un altro paio di maniche probabilmente ma per adesso, bravi Timberwolves e dopo questo preambolo c'è da parlare tantissimo dei Phoenix Suns che hanno giocato una serie veramente scoraggiante poi ci direte voi nei commenti cosa ne pensate, veramente scoraggiante il più scoraggiato di tutti è parso dopo le prime due partite proprio che è venuto durante che non so voi, a me ha dato proprio l'impressione di uno che abbia per quest'anno perché poi è lì e rimane però, forse, con Durante si può avere da bere quindi rimane però uno di quelli, il primo forse ad abbandonare la nave della stagione soprattutto, ma già Durante l'avevamo visto abbastanza poco convinto nelle ultime settimane come atteggiamento e dichiarazione della qualità in campo che non si discute i Suns hanno giocato tutta la serie senza Grayson Allen che è stato il quarto miglior giocatore della squadra per tutto l'anno, così tanto da meritarsi ci arriveremo l'auto rinnovo contrattuale ancora prima che potesse diventare free agent, Grayson Allen si è fatto male in gara 1 ed è uscito prima, ha provato a giocare in gara 2, si è rifatto male ogni infortunio nella caviglia e da lì in poi non l'abbiamo più visto tra l'altro l'ha pure tirato male, quindi scampoli, gli scampoli di serie che ha potuto giocare i Suns hanno tirato poco e malissimo da 3 nella serie, troppo poco per una squadra costruita a quel modo troppi tiri dal mid range, da una media distanza che tendenzialmente non sono a percentuale così alta nell'NBA di oggi, neppure se se li prendono Durant e Booker in tanti tiri liberi in gara 4 ma too little too late, anche qua come si dice in inglese ne abusiamo un po' ma ne abusiamo un po' va da sé Yusuf Nurkic in una serie in cui gli veniva chiesto oggettivamente di fare fronte a una front line dei T-Walls preponderante per capacità tecniche e centimetri non ha potuto stare in campo sostanzialmente in questa serie senza Grayson Allen, le rotazioni per coach Vogel sono state ancora più difficili Ross O'Neill non è più quello che ha fornito un contributo importante per i Utah Jazz che sono stati poco tempo fa la contender proprio con Gobert non è più quel tipo di giocatore Gary Gordon abbiamo detto, direi che non è un caso di inferire insomma su un giocatore che è stato un giocatore importante oggi sente il peso degli anni per il resto Vogel non aveva alternativa in panchina in gara 3 aveva provato a inserire Ball Ball aveva provato a dare qualche minuto anche a David Roddy non aveva avuto il coraggio di schierare a Isaiah Thomas ovviamente Drew Yubanks è stato panchinato selvaggiamente dopo le tre partite gara 4 è stata la migliore della serie ma ormai i giochi erano fatti se non fosse finita in gara 4 sarebbe finita spero di aver beccato i verbi in gara 5 quindi insomma i giochi erano veramente già fatti i Suns adesso si ritrovano a commentare e a affrontare soprattutto commentare la commentiamo noi affrontare una off-season tanto per cambiare complicata non perché ci siano delle scelte da fare le scelte da fare sono obbligate è molto interessante andare a vedere anche se chi ci segue lo sa benissimo ma siamo qui per questo che cosa i Suns hanno sacrificato in che condizioni si sono messi per avere una squadra che ha uno dei payroll molti salari, quello che volete più alti dell'NBA e che è andata è una squadra che è andata fuori il primo turno senza troppe anzi senza alcuna cerimonia 4-0 letteralmente senza neanche passare dal via con una serie tra le meno equilibrate del primo turno che si siano viste che si siano viste di recente per una squadra che ricordiamolo nel 2021 mille anni fa con un altro impianto con un altro coach un altro proprietario che ha cambiato nel frattempo ha fatto la finale NBA e si è ritrovata sopra 2-0 con il Milwaukee Bucks per poi perdere quattro partite di fila e perdere l'occasione di vincere il titolo NBA i Phoenix Suns sappiamo benissimo che cosa hanno attuato nell'estate scorsa quindi un grande tutta la transizione dalla proprietà da Robert Sarver a Matt Ishbia che è entrato subito a gamba tesa direi nell'assetto societario soprattutto nelle decisioni di Pallacanessa varando un grandissimo piano vinceremo subito quindi andranno a prendere via trade Bridal Bill con i Washington Wizards in estate scaricano Chris Paul scaricano DeAndre Ayton che anche qua ci dobbiamo arrivare secondo me DeAndre Ayton che non era più nei piani della società anche se poi essendo cambiato allenatore ed essendo arrivato Kevin Durant nel frattempo forse è stata una scelta non dico da rimpiangere perché Ayton non si è proprio coperto di gloria fino adesso a Portland però ad esempio ero uno di quelli che era convinto durante l'off season che stante così le cose con il cambio di proprietà con il cambio di allenatore e col nuovo corso con l'arrivo di Durant la trade per Ayton sarebbe anche non potuta accadere Ayton avrebbe brutto secondo me quello che ha avuto Nourkic in stagione però anche Ayton non aveva più ancora intenzione di restare lì è comunque inutile andare ormai andare a disegnare scenari scenari che non sono attorno a questi tre che da soli occupano la percentuale maggioritaria delle salari cap che è che durante il bill e Devin Booker naturalmente i Sans hanno dovuto fare di necessità virtù ovvero andare a firmare veterani e giocatori al minimo salariano hanno ricevuto un bel pacchetto di giocatori da Nassir Little lo stesso Grayson Allen Drew Yobanks eccetera dalle trade che hanno compiuto l'estate quella a 3 team che poi ha portato Damian Lillard ai Milwaukee Bucks hanno ottenuto Nourkic una squadra che a guardarla adesso noi torniamo un po' indietro aveva comunque un fussello per lo star power come ho detto prima naturalmente per il peso la possibilità di giocare per il titolo naturalmente ma anche sembrava anche abbastanza non di altissimo livello naturalmente attorno attorno al Big 3 ma abbastanza profonda e abbastanza nei limiti del possibile versatile nella realtà dei fatti con un nuovo allenatore naturalmente Frank Wogan nella realtà dei fatti così non è mai stato i Phoenix Suns hanno iniziato male la stagione malissimo però perdendo due volte con i San Antonio Spurs per esempio non hanno mai trovato ritmo letteralmente Bradelby l'ha avuto tanto per cambiare dei problemi fisici però poi era entrato nella seconda parte di stagione ha giocato durante non si è fatto male cosa che era purtroppo proprio una costante delle ultime stagioni però è una squadra che non ha mai fatto clic soprattutto vedendola contro Minnesota è una squadra che ha confermato il fatto che per limiti fisici atletici tecnici magari anche di panchina non ci arriveremo non ha mai saputo giocare in modo diverso a un ritmo diverso soprattutto di quello che ha proposto per per tutto l'anno sovrapponendo le caratteristiche di due giocatori piuttosto simili come Bradelby e Devin Booker rinunciando per necessità e anche perché non è stato trovato sul mercato ha una point guard di ruolo che probabilmente non avrebbe cambiato molto però in certi momenti di cui in certi momenti si è sentita la mancanza Minnesota non ha dovuto fare niente di più niente di meglio di quello che ha fatto per tutto l'anno per avere la meglio di una squadra che davvero l'impressione più grossa che si è avuta guardandoli in questa serie appunto è stata proprio una squadra che non ha mai saputo non ha mai dato l'impressione di avere la possibilità un giro lungo di cambiare veramente ritmo per il modo in cui è stata costruita per il fatto anche qui ci arriveremo che Kevin Durant è sempre Kevin Durant però non è più il Kevin Durant che siamo abituati a vedere perché agli età comincia a farsi sentire perché non è solo dei punti naturalmente dall'efficienza offensiva che ha dato ultimamente anche calata dal punto di vista delle percentuali non tanto in questa serie ma nel final di regular season di Durant e quindi il risultato non poteva non poteva che essere questo quello no perché era una serie che i Sans avrebbero dovuto e potuto allungare perlomeno contro una squadra che comunque aveva vinto quante? dieci partite più di loro quindi i favori del pronostico erano giustamente le T-Wars nessuno si immaginava un 4-0 ci ho detto è tutto da buttare per i Sans vuol dire che dopo un solo anno e dopo tutti i soldi e gli asset investiti da Matt HBA e dalla squadra bisogna buttare via tutto scambiare Booker scambiare Bill scambiare Durant licenziare Frank Vogel licenziare James Jones che è il general manager che è l'unico che ha vissuto sostanzialmente dalla vecchia gestione server significa questo? no per due motivi semplici primo non è possibile perché sbaraccare tutto dopo una stagione così con quella struttura salariale è veramente complicata ci vuole del tempo puoi decidere di farlo ma ci vuole del tempo e la seconda ragione è che per quanto sia andata male questa stagione l'epilogo è andato peggio ma è stato un prodotto della stagione i Sans hanno ancora almeno un anno per provarci con questo gruppo un po' perché devono la domanda è vogliono? la risposta è sì non lo so se vogliono ma sono sono obbligati a farlo sempre con Frank Vogel in panchina ci arriviamo andiamo un po' a vedere la situazione salariale dei Phoenix Suns che hanno a parte il loro Big 3 e Nurkic hanno altri giocatori sotto contratto anche per l'anno prossimo sono Massie Little Eric Gordon che è una player option Josh Kogge che è anche lui una player option poi David Roddy Dimion Lee che quest'anno non ha giocato per un infortuna ex giocatore dei Golden State Warriors e Drew Eubanks il nucleo della squadra è sostanzialmente fatto è questo i free agent importanti sono per i panchinari Bol Bol che si pensava potesse avere un ruolo un po' più importante invece non è mai entrato nelle grazie di coach Vogel Tedious Young e Isaiah Thomas per quello che insomma concerne il suo passato i due free agent importanti il free agent l'importante sarà Royce O'Neill che è arrivato via tre da metà stagione per correggere uno dei difetti a roster che era quello di mettere un'ala con doti difensive di fianco a Durant e Booker e Bill per coprirne un po' le esigenze e anche poi i limiti difensivi salta anche per ragioni di età per quanto riguarda Durant e anche di capacità per quanto riguarda Booker e Bill Royce O'Neill sarà free agent una Phoenix non si è propriamente l'abbiamo detto prima coperto di di Gloria ha tenuto delle percentuali dignituose in regular season in 30 partite e playoff insomma ha mostrato ha mostrato un po' la corda Grayson Allen che è l'unico alibi oggettivamente piccolo limitato che hanno i Suns in questa serie che ha giocato una grandissima stagione oggettivamente è stato bravissimo ad approfittare degli spazi naturalmente aperti da tre dal fatto di giocare con tre stelle così si è guadagnato sul rinnovo contrattuale da 70 milioni di dollari complessivi in quattro anni in quattro anni fino al 2028 i Suns hanno preferito pagare subito Allen per evitare di rassegnarsi a un'asta per un giocatore che ha giocato appunto l'abbiamo detto la sua migliore stagione in carriera i Suns sono questi ma soprattutto sono questi perché per un bel po' adesso ci arriviamo per la struttura sia per la struttura salariale appunto che abbiamo appena descritto adesso andremo a vedere magari anche più nel dettaglio che per l'assoluta mancanza di asset future di scelte che hanno sacrificato in due mega trade quella per prendere durante la trade deadline del 2023 quella per prendere Bradel Bill non solo anche Royce & Neil per prendere Bradel Bill nell'off season 2023 e Royce & Neil alla trade deadline trade deadline 2024 basta un semplice sguardo per vedere di che scelte non dispongono i Phoenix Suns per capire che la squadra è questa nel prossimo futuro i Suns disporranno solo quindi fino al 2030 solo di due seconde scelte di una seconda scelta al draft di quest'anno 2024 che arriva da Denver di una seconda scelta che arriva da Boston al 2028 tutte le altre prime e seconde scelte sono state tutte usate per prendere Durant per prendere Bill per prendere Royce & Neil eccetera ed è la cosa da fare se c'è una squadra che vuole vincere subito quindi c'è tutti i suoi asset e prende Kevin Durant e prende Bradel Bill il problema si apre è un gioco che vai alla candela se vinci grazie tante ma vincere è difficile le squadre sono 30 ne vince una sola le squadre che vanno ai playoff sono la metà e le squadre che vanno al secondo turno già sono fate voi fate voi il conto quindi è un po' più facile almeno arrivare al secondo turno questi Suns avrebbero giudicato un fallimento anche uscire al secondo turno però uscire al turno 4-0 è veramente è veramente una dobbiamo chiedere che è uno schiaffo alla miseria visto quello che hanno che hanno speso appunto anche qua in termini di asset Bill Danaro per sostenere per sostenere un roster del genere ma il vero non problema il vero collo di bottiglia di questi Suns è che non sono assolutamente non saranno assolutamente in grado di cambiare pelle cambiare volto cambiare faccia questi sono e questi rimangono l'anno prossimo Durante avrà un anno di più rimane che Durante ma non ringiovanisce Bradley Bill è reddice dalla sua quinta vado a vedere questo qua il suo foglio davanti la sua quinta stagione di fine in cui ha giocato meno non ha mai giocato più perdon di 60 partite questo anno ne ha giocate 53 per la prima parte di stagione non ha giocato perché ha impilato infortuni anche da Bill è lecita a tendersi di più ma il problema è Bradley può stare in campo con costanza e quel poco di esperienza che mi ci insegna mi e ci dice che l'unica cosa che i Phoenix Suns possono realisticamente fare per far vedere che l'eliminazione per 4-0 produce qualche cosa e far rotolare qualche testa è purtroppo perché insomma è affezionato diciamo così purtroppo è la posizione di Frank Vogel sarà probabilmente cambiare guida tecnica e esonerare Vogel che vedete sotto di me per chi guarda il video allora la scelta di Frank Vogel una volta ha deciso di archiviare Monty Williams è stata fatta fin'anno sia un allenatore veterano esperto che ha avuto tante esperienze nel gestire le star Lebron James la più star di tutte ha avuto anche un titolo in condizioni particolari nella bolla di Orlando ma erano condizioni particolari per tutti quindi i Lakers sono stati più bravi di tutti nelle condizioni particolari con un titolo NBA quindi Vogel è arrivato con l'aura dell'allenatore già titolato e anche con il precedente dell'allenatore anche esonerato sempre dai Lakers dopo una stagione giudicata al di sotto delle possibilità tra l'altro dopo aver vinto appunto il titolo Frank Vogel era la scelta ed è stata ed era la scelta ideale per questa squadra avrebbero a dire di no per le abitudini tecniche mettiamo la chiusura di Vogel che sia dai tempi degli Indiana Payser che sono stati la sua prima grande faccio prima in carico da head coach quelle di Paul George Roy Hibbert eccetera è sempre stato un allenatore e i Lakers ci ha vinto un titolo così è sempre stato un allenatore che ama giocare con due lunghi con una grande in centro ricordiamo Dwight Howard Anthony Davis Gioval McGee eccetera i Suns non ha mai avuto non ha avuto il roster adatto per giocare con due lunghi quindi Durant è sempre trovato da giro essenzialmente da secondo lungo di fianco a noi che ciò su poi radicamente a Drew Eubanks qual è il problema che per questi Suns sarebbe servito Mike D'Antoni probabilmente più giovane scusate più giovane di 15 anni D'Antoni che a Phoenix ha venerato come un matma per quanto riguarda la palla canestro ora sulle voci sulle ricostruzioni che sono uscite in quest'ora di Shem Sharenia che è sempre benissimo informato Insider Shem Sharenia che ha parlato di un Kevin Durant con il mal di pancia come si suol dire poco convinto del come si chiama del sistema offensivo per nulla convinto che richiama un po' durante la Porzing nell'urla convinto del fatto di dover passare troppi sto traducendo da quello che ha scritto Sharenia troppi minuti sostanzialmente troppo facile il gioco tra virgolette nell'angolo ad aspettare Devin Booker e Bradley Bill che si sviluppasse la manovra non convinto della qualità offensiva dei Suns degli schemi e quindi non convinto dell'operata di Frank Vogel ora durante carriera di allenatore di scalpi ne ha ne ha almeno un paio Steve Nash in parte anche Monty Williams l'anno scorso Kenny Atkinson che quando durante le infortunate i Nets in società con Kyrie Irving fece licenziare sostanzialmente proprio per metterci Nash poi dopo l'interregno di Jacques poi tra l'altro subentrato a sua volta a Nash insomma i Nets si sono divertiti in questi anni si divertiranno ancora per un po' temo anche se adesso sono un allenatore nuovo Jordi Fernandez che avrà tempo di costruire una squadra da da zero no ma comunque plasmandola la sua immagine in somiglianza a Fernandez che è andato a scuola tre golette da Mike Brown quindi la risposta alla domanda voglia l'allenatore giusto per i Suns se perdi 4-0 il primo turno senza troppi alibi e troppe spiegazioni perché non li avevano i Suns sono arrivati fisicamente bene anche quasi meglio di T-Wall paradossalmente che avevano un Towns appena rientrato se hanno fatto male Kyle Anderson eccetera hanno perso che era il zone allen d'accordo ma non avevano grossi problemi strutturali perché comunque erano arrivati al completo al momento clou erano riusciti a prevalere grazie anche a dei regalini dei Pelicans dei Pelicans e dei Sacramento Kings prevalere nella corsa agli stramaledetti per chi ci segue sa benissimo di cosa parlo stramaledetti quindi arrivavano bene tra l'altro tanti tanti espertoni esperti veri espertoni per scherzare naturalmente tanti esperti veri e certificati davano i Suns magari non vincenti in questa serie ma comunque favoriti mettiamola così per una serie lunga contro Ety Wars e non è andato niente di questo si è niente di questo si è avverato e quindi la tirando le le somme le fila di tutto quello che abbiamo detto fino adesso del fatto che i Suns sono costretti condannati letteralmente a riprovarci uguali identici a come sono adesso perché non possono fare essenzialmente nient'altro che nessuno vuole Bradley Bill nessuno vuole per quanto per quanto simpatico possa essere nessuno vuole nessuno vuole Joseph Nurkic non possono cambiare pelle l'unica cosa che possono provare a fare è cambiare l'allenatore ma togli Vogel e metti chi metti uno messo lì letteralmente col favore viene Placet di Booker Durant e Bill o vai a cercare Isbia James Jones probabilmente sarà anche lui a fare le spese ma magari non immediatamente perché comunque c'è un off-season comunque da da condurre oppure cerchi il grande nome quello che usando la macchina del tempo e tornando dietro i vent'anni avrebbe voluto essere Phil Jackson non ci sono dei allenatori con quel carisma quella presenza e quella pedigree quei precedenti per andare ad allenare una squadra piena di piena di star come come sono i Phoenix Suns con tre star così appunto Mike D'Antoni ormai la sua carriera l'ha fatta e Phil Jackson pure semplicemente non ce n'è è strano pensare a che ne so Steve Kerr che decide di interrompere il suo percorso con i Golden State Warriors e tornare ai Phoenix Suns perché Steve Kerr è stato generalmente zero dirigente comunque dei Phoenix Suns altri allenatori di grido a piede libero non ce n'è tranne uno che come Frank Vogel è un titolato NBA anzi è stato il successore per quanto riguarda l'allenatore NBA di Frank Vogel sul trono dell'NBA che è Mike Budenholzer che non è andato ad allenare in Ezzera uno dei nomi papabili non andrà ad allenare di Charlotte Tornitz mi sembra mi sembra abbastanza evidente Budenholzer è l'unico allenatore non cambia molto rispetto a Vogel stiamo parlando dello stesso caratura per quanto riguarda il livello percepito per lo meno come allenatore sembra appunto il nome più indicato oggi per lo meno è il nome più indicato se i Suns dovrebbero passare oltre e girare le pagine rispetto a Frank Vogel poi dal punto di vista tecnico si apriranno mille discussioni sul Vatter se Budenholzer sia poi meglio di Vogel per quanto riguarda appunto la tattica la tecnica il concepire la palacanestro del 2024 all'adattarsi a una squadra che sarà comunque improntata su Durant Booker e Bill l'unico motivo oggettivamente ma questo è vero per essere ed è un gran bel motivo oggettivamente per essere ottimisti se siete tifosi o vi interessano le sorti dei Phoenix Suns è pensare che comunque sperando che siano tutti convinti Bradley Bill Booker Durant quelli che comunque sono e quelli restano vediamo il resto lì avranno un'estate tutta una stagione soprattutto l'anno prossimo per cominciare una stagione dall'inizio imparando se Dio vuole anche da quello che non è andato non è andato in questa stagione hanno ancora 12 mesi diciamo così di finestra per provarci perché sono costruiti anche per questo Booker Durant e Bill hanno a torto ragione dei contratti lunghi e sono blindati sono condannati a riprovarci ci devono riprovare ci riproveranno il punto è con quanta convenzione durante uno che di battenza ne ha poca per chiudere il mio intervento che è anche stato fin troppo lungo secondo me Durant ha già deciso sostanzialmente che Vogel non va bene perché anche dopo le prime due sconfitte poi soprattutto la sconfitta di gara 3 è apparso molto abbattuto e soprattutto con quell'atteggiamento passivo-aggressivo che è utile solo a dare l'impressione di voler buttare anche qui traduzione dall'inglese sotto il bus sotto l'autobus o buttare giù dalla torre se volete italianizzarlo il suo allenatore dicendo cose tipo rispondendo a domande tipo chi è il vostro leader eccetera anche le domande un po' provocatori dei giornalisti giustamente Durant ha risposto è Vogel il nostro leader noi possiamo dire la nostra dire come la pensiamo ma il nostro leader è Vogel che vuol dire che ha tolto ragione è Vogel che si deve prendere buona parte della responsabilità del flop l'allenatore è il vaso di coccio nei vasi di ferro per una questione meramente di peso salari cap e contrattuale quindi l'unica cosa per chiudere davvero che i Suns possono fare adesso è cacciare purtroppo Frank Vogel dopo una stagione e provare a correggere il tiro prendendo l'unico nome su piazza oggi che ci viene in mente che quello di Mike Budenholzer poi in futuro vedremo che tipo di scelta eventualmente verrà fatta c'è solo un uomo diciamo che può mettersi in mezzo a questo catena che sembra un po' così inevitabile di eventi che è il proprietarione Matt Isbia che è uno bello decisionista abbiamo avuto modo di apprezzarlo se Matt Isbia dovesse muoversi in favore della posizione di Vogel oppure dovesse muoversi naturalmente per appoggiare le sue star eventualmente e assecondarle anche da questo punto di vista questo potrebbe fare una differenza sostanziale questo era proprio per una reazione a caldo parziale sicuramente che dovremmo approfondire sull'eliminazione dei Phoenix Suns e intanto dici nei commenti qua sotto naturalmente cosa ne pensate e continuate a seguirci su NBApassion.com sul sito sui nostri social sul canale YouTube iscrivetevi se non l'avete già fatto invitate tutti a scriverci seguiteci soprattutto seguite i playoff NBA seguite le nostre dirette serali per commentare i playoff NBA assieme con il nostro live show con Stefano il timone alla conduzione noi vi salutiamo e vi saluto salutiamo anche Phoenix Suns se ne vanno a casa o a pescare decidete voi che tipo di analogia utilizzare e noi ci vediamo prestissimo sugli schermi YouTube e non solo di NBApassion.com